Il tema vero è che Crippa diceva benissimo che nei primi giorni di questi Stati Generali hanno raggiunto dei punti importanti per il programma. Per loro sarebbe utilissimo renderli pubblici, in modo tale che i cittadini possano aderire e quindi salire nella grada dell'amministrazione, perché così come è stata presentata, se sostituiamo i click alle tessere è come un'organizzazione che ricorda la vecchia democrazia cristiana, che va benissimo perché col successo che ha avuto sul territorio era fortemente legata ed era di natura territoriale importante. È ovvio che se non c'è un riconoscimento e se c'è questo scollamento, loro non hanno delle personalità così conosciute. Ecco perché il direttorio sono sempre quelle 7, 8, 10 persone che grazie ai mezzi come la televisione e andando con la loro popolarità, pensiamo a Giarusso, pensiamo alla Taverna, pensiamo a Crimi, pensiamo a Di Maio, pensiamo a Di Battista, sono sempre al centro del dibattito. Invece la democrazia cristiana è così quello che mi è sembrato di comprendere, è quello di riuscire a capire di avere una rete territoriale molto più importante. Però purtroppo ancora non hanno questa presenza così importante. Vi porto un esempio tipico. Fratelli d'Italia è cresciuto notevolmente, al di là della mediaticità di Giorgia Meloni, dell'essere molto legata al suo territorio, ma anche dell'essere sempre coerente, perché ha fatto moltissimo dumping su consiglieri regionali, assessori, municipali, eccetera, dei partiti della sua coalizione, cioè tra la Lega e Forza Italia, creando una rete territoriale molto importante, e beh, dall'Emilia Romagna, tra la Liguria, ha fatto una buona... No, ma siccome conosco bene il tema, vi chiedo scusa... Forza Italia, forse, ma non dalla Lega. No, va bene, dobbiamo rinviare a un'altra puntata questa parte e a domani per la questione molto importante del Recovery Fund, perché abbiamo esaurito il tempo, però tante cose interessanti sono state dette. Restate con noi, pubblicità, perché arriva Maccox.